ben ritrovati con quante storie vuoi oggi siamo in compagnia come sempre della nostra critica scrittrice di anora tinti di enrico bistazzoni editor e traduttore ma siamo anche in compagnia di elia e veronica della comunità di nomadelfia brevissimo scoprirete il perché e purtroppo in collegamento via skype per un piccolo problema di trasporto ma ce l'abbiamo con noi comunque ovvero la scuola di arcidosso la terza a del liceo delle scienze umane ciao ragazzi benvenuti loro si sono preparati tantissimo sulla storia di oggi abbiamo infatti con noi enrico genovesi di cecina provincia di livorno lui fa il fotografo dal 1984 si è dedicato prevalentemente al reportage a sfondo sociale su storie italiane che oltre a essere stati pubblicati su vari magazine così hanno avuto poi sbocchi editoriali per numerosi enti pubblici tra cui il ministero della giustizia l'asl partenariati con la comunità europea e ha collaborato con la storica agenzia grazia neri ovvero la prima agenzia fotografica italiana di milano pensate fino al mille al 2012 e poi è stato rappresentato da emblema foto agency per dire che ha avuto dei rappresentanti veramente alti nel campo della fotografia oggi presentiamo il suo lavoro nomadelfia un oasi di fraternità un libro fotografico con contributi testuali curati da franco arminio poeta e scrittore e giovanna calvenzi foto editor e sergio mangi sociologo un ritratto di una storica realtà comunitaria italiana e della sua straordinaria proposta esistenziale fotografie ci sono nel libro testi valori profondi come la fraternità che ci permettono di comprendere che esistono davvero dei luoghi dove il perseguire l'accoglienza la fede la sobrietà e la giustizia non sono affatto un'utopia prima di sentire la voce di enrico sentiamo però quella di dianora che ci racconta qualche curiosità bene grazie francesca come hai detto tu poco fa appunto è un libro che abbina la parola con le immagini con la fotografia e si parla di nomadelfia che è una comunità sicuramente sui generis unica in italia fu fondata nel diciamo così nel 1948 nell'ex campo di concentramento di fossili in provincia di modena da don zeno saltini e da lì poi diciamo che si è evoluta e si è anche trasformata fino ad essere quella che tutti noi oggi conosciamo e hai detto bene tu è una comunità particolare una comunità dove i valori fondanti sono quelli appunto della della fede della fratellanza della condivisione della solidarietà dell'amicizia e diciamo che questo libro mi ha colpito in maniera particolare perché attraverso questi straordinari devo dire scatti della quotidianità di una comunità come quella di nomadelfia che conosceremo meglio dalle parole del nostro ospite fra poco ecco mi hanno colpito questi questi scatti perché nella loro ordinarietà nella loro quotidianità hanno veramente qualcosa di straordinario e quindi è veramente un volume da leggere da sfogliare da da assimilare in qualche modo perché una volta letto perlomeno questo è capitato a me diciamo che la visione della vita e dei rapporti umani cambia un pochino enrico ti rivedi in queste parole di dianora sì intanto grazie a tutti gli ascoltatori saluto a tutti gli ascoltatori grazie per queste parole in cui mi ritrovo perfettamente e mi aggancio a queste per dire che in effetti sin da subito questo libro è stato pensato non come un compendio semplicemente di immagini di una quota di fotografie di immagini ma voleva completarsi anche con altre altri contributi e quelle testuali credo siano molto molto interessanti che contribuiscono a creare un'operazione secondo mio punto di vista compiuta al di là del fatto che ovviamente la parte centrale è caratterizzata dalle immagini perché quella la forza è trainante ma tutti i testi sia la parte più poetica assolta diciamo così dalla presenza e dalla generosità di alcune poesie messe a disposizione dal noto poeta scrittore franco arminio e alla foto editor giovanna calvenzi che ha collaborato anche lei con un bellissimo testo sulla parte fotografica e sergio manchi quale sociologo è entrato nel nel tema e nel concetto proprio di fraternità che è l'elemento chiave che caratterizza questo luogo questa comunità tra l'altro è sta si tratta di una pubblicazione che ha avuto veramente riconoscimenti apprezzamenti da ogni parte d'italia e non solo tutti i premi che attestano l'importanza poi no del del lavoro fatto e insomma che fanno sempre bene un po a quando si fa un lavoro e viene 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 apprezzato in maniera da prestigio ecco all'opera io volevo sapere però quanto tempo c'è come è nato questo questo lavoro abbiamo appunto qui elia e veronica che voglio dire mi hanno sono stati intanto felici hanno raccolto subito il nostro invito a essere qui con noi proprio perché so che per un periodo sei stato hai vissuto insomma con loro no sì allora tutti i miei lavori tutti i miei progetti si caratterizzano sostanzialmente in una cittata a lungo a medio lungo periodo e ovviamente nomadelfia non poteva fare eccezione poi la cosa è maturata strada facendo perché i primi scatti arrivano a metà parte il progetto a metà 2017 e poi proseguirà per per quattro anni ovviamente poi il quinto anno è stato l'anno della della messa in diciamo in forma sotto sotto come prodotto come prodotto libro tengo a dire che i premi ovviamente riconoscimenti che sono stati diciamo da riconosciuti diciamo questa mia questo mio lavoro vengono soprattutto dalle immagini che nel frattempo si sono mosse in certi in certi ambiti perché il libro è la coda un po di tutto questo quindi il premi sostanzialmente hanno riguardato il reportage il lavoro che ha veicolato a prescindere dal libro il libro è diciamo l'elemento che di chiusura è la ciliegina che praticamente contempla il tutto certo assolutamente elia e veronica voi chiedo subito e approfitto di questo per farlo intanto che cosa significa avere un fotografo con il quale vivere per un periodo che ha documentato in qualche maniera la vostra vostra comunità e poi vedere anche l'opera con queste fotografie magnifiche anzi approfitto per chiedere alla regia se qualche fotografia possiamo vederla nel nel frattempo prego lì allora abbiamo una realtà a nomadelfia che è sempre aperta all'accoglienza di tante persone che vengono chi per curiosità chi perché vuole sperimentare un pochino quella che è una vita particolare di fraternità ma abbiamo anche tante persone che vengono spinte da quello che è un interesse legato al mondo del proprio lavoro del giornalismo e in questo caso dell'arte della fotografia e quindi non è il primo fotografo che incontriamo cosa ha reso particolare la presenza di Enrico per questo lavoro il suo approccio umano ed è quello che abbiamo apprezzato tanto e che ci fa felice anche oggi di essere qui perché ha saputo entrare in punta di piedi in una realtà che a volte si può anche fare fatica a comprendere fino in fondo se non appunto cercando di comprenderla nel tempo tanti aspetti credo che siano emersi anche nelle fotografie proprio perché ha saputo calarsi con pazienza all'interno di tanti rivoli che la nostra vita propone e questo l'abbiamo notato e l'abbiamo molto apprezzato. Poi devo dire che ci sono anche delle curiosità su alcune come dire peculiarità che caratterizzano la vostra comunità che appunto Enrico ha saputo cogliere nei minimi particolari con Dianora abbiamo parlato di queste figure materne che poi crescono più figli beh insomma ecco in questo Veronica ti chiedo appunto che cosa significa fare la mamma a Nomadelfia? Allora fare la mamma a Nomadelfia è essere mamma di tutti no? La mamma è proprio una presenza in casa per i piccoli ma anche per i grandi cioè deve creare quel calore di famiglia che che si deve sentire in una casa aperta all'accoglienza e poi sì le famiglie accolgono tanti figli sia nati che accolti diciamo da altre vie noi diciamo arrivano dalla porta e però una volta arrivati in famiglia sono tutti figli uguali sono tutti fratelli tra di loro ed è sicuramente una missione sempre in divenire che ogni giorno scegli di confermare e di vivere al pieno pur facendo anche tante altre cose perché le mamme di Nomadelfia non fanno solo quello ecco Enrico immagino che anche fare un libro di fotografie fondamentalmente qual è questo con dei testi presuma all'origine un piano di lavoro no? Quindi magari il reporter va lì con una sua idea di lavoro che vorrà realizzare volevo sapere quanta di questa parte c'è nel tuo libro e quanto invece c'è di prodotto maturato in corso d'opera che in qualche modo ha cambiato anche l'autore del libro? Allora ogni ogni progetto diciamo si ha un suo percorso un suo divenire che comunque ne modifica le intenzioni anche iniziali questo sempre quindi c'è un po' dell'uno e un po' dell'altro è altrettanto vero che quando che ti imbatti come fotografo intendo mi imbatto in un progetto a meglio lungo termine hai già un'idea di quelle che è la rotta la direzione da da tenere altrimenti rischi di veramente perderti quindi è fondamentale per noi fotografi quando affrontiamo qualsiasi tema questo è uno dei tanti ma ma avere una una rotta da seguire e quindi ma a contempo mentre procedi con la navigazione essere di aperto e disponibile accogliere le diciamo così le chiamavole interferenze positive che ti si presentano davanti agli occhi quindi questa è la peculiarità che un fotografo sempre attento e curioso deve tenere presente pronto a modificare e diciamo adattare armonizzando il tutto al meglio questo vorrei sentire la voce dei ragazzi che appunto ci stanno seguendo via skype che si sono preparati proprio su questo libro facendo un lavoro in classe con la loro insegnante romina colombini prego ragazzi a voi la parola sono mattia vorrei sapere come è nata la sua passione per la fotografia vado diretto domanda secca risposta secca guarda è nata del modo del tutto casuale qualche qualche decennio fa era il 1985 semplice un banale chiamava così il regalo natalizio una macchina fotografica che forse in casa ci voleva e da lì scopro che questo mezzo che io fino a quel momento ignoravo trascuravo li dava un'importanza molto relativa mi rendo conto che nascondeva degli aspetti affascinanti e potenti e un po alla volta chiaramente c'è un innamorazione un innamoramento nasce un innamoramento della di questa è un'attitudine anche così a ad approfondire perché sia un mezzo tecnico la macchina fotografica ma come tutti gli strumenti espressivi e la fotografia è uno di questi ha necessità ha decisato di punto di acquisire una tecnica per poi liberarsi e dare sfogo alla propria espressione che sia artistica giornalistica documentaria di qualsiasi tipo per poi perché poi la fotografia è un mondo ampissimo dicendo fotografia si dice poco in niente anche in continua evoluzione continua evoluzione ma poi si dice cioè diciamo così è un'attitudine una pratica ma che poi alla fine va andrebbe specificato meglio di cosa ti occupi perché la fotografia la puoi utilizzare per tante per tante veramente tantissime cose dalla fotografia documentaria appunto giornalistica oppure creativa certo pubblicitaria e food insomma c'è di tutto nella fotografia quindi c'è da da spazio a tante a tanti modi modalità di essere approfondita ragazzi via con la seconda domanda donna vittoria vorrei sapere cosa porta una persona a seguire la fotografia come forma d'arte si aggancia un po alla discorso precedente evidentemente la la voglia la volontà di esprimersi trovare un mezzo che ti è che ti è congeniale per farlo probabilmente io ero poco adatto con la parola anzi abbastanza impacciato da sempre un po forse ho migliorato un po nel tempo ma la fotografia mi permetteva forse di dire quello che con le parole non riuscivo a esprimere con la stessa diciamo destrezza ecco e allora passiamo alla al punto su pierpaolo pasolini in occasione proprio della ricorrenza del centenario nel 2022 l'assassinio il processo un caso sempre aperto di questo ci parla enrico bistazzoni alle 6 e 30 del 2 novembre 1975 un corpo viene ritrovato sulla strada adiacente la spiaggia dell'idroscalo di ostia si tratta di pierpaolo pasolini lo riconosce il suo amico attore ninetto davoli nel frattempo un giovane 17enne pino pelosi viene arrestato dai carabinieri mentre alla guida dell'auto stessa di pasolini con cui pasolini sarebbe stato ucciso ricordiamo il corpo fu travolto più volte dalla sua stessa auto una alfa romeo giulia gt 2000 veloce pino pelosi viene arrestato ritenuto fin dall'inizio il colpevole del delitto di pierpaolo pasolini delle vere dinamiche dell'omicidio delle abitudini di pasolini che era solito passare le serate al ristorante con amici salvo poi lasciarli per vivere con la sua seconda vita oscura tanto si è detto e tanto si è scritto dal primo momento fino ad oggi di certo che è una verità che rimane difficile da affiorare in tutta la sua interezza fin dal primo momento ci sono stati tante inchieste articoli libri investigazioni riaperture di processi che hanno reso al centro dell'attenzione la vicenda del delitto pasolini oreana fallaci fu tra i nomi eccellenti che cavalcarono in qualche modo la tesi del complotto affermando la presenza sul luogo del delitto non solo di pino pelosi ma almeno di due altre persone le sentenze processuali stesse testimoniano questa questa difficoltà tanto è vero che nella prima sentenza quella del 4 dicembre 1976 non si esclude la presenza di ignoti accanto a pino pelosi mentre la sentenza di appello vuole escludere ritenere il diciassettenne come unico colpevole ci fu chi parlò di complotto appunto testimonianze discordanti ad esempio i proprietari del biondo tevere il ristorante solitamente frequentato da pasolini dissero che anche quella sera lo scrittore si era recato in quel luogo in compagnia di un ragazzo piuttosto alto biondo con i capelli tirati all'indietro descrizione fisica totalmente diversa da quella di pino pelosi il regista sergio citti amico di pasolini disse che probabilmente l'autore era andato all'idroscalo di ostia per incontrare dei malavitose che si erano impegnati a restituire le pizze dell'ultimo film di pasolini il salò o le 120 giornate di sodoma che gli erano state sottratte un ragazzo parlò di essere stato presente anche lui sul luogo del delitto e che si era trattato di una colluttazione di fronte all'avance di pasolini che poi c'era stato soltanto il desiderio di rubare il portafoglio e una lite che era finita poi nella maniera tragica salvo ritrattare qualche tempo dopo in quanto si sentiva minacciato poi ci furono le testomianze anche di alcuni di vicini che parlarono di aver sentito nei momenti corrispondenti al delitto urla e richieste di aiuto insomma tante voci anche discordanti che rendono misterioso questo caso che ancora oggi a distanza di tanti anni sembra ben lontano di aver trovato una soluzione per quanto riguarda le sue dinamiche insomma le nebbie che avvolgono l'omicidio pasolini sembrano tutt'altro che diradate ci fermiamo per la pubblicità torniamo tra pochissimo continueremo la nostra conversazione a tutto tondo con enrico genovesi restate con noi a tra poco eccoci tornati in diretta ancora con enrico genovesi il nostro autore fotografo di questo bellissimo libro dedicato alla comunità di nomadelfia ma prima di riprendere la conversazione con lui c'è il nostro editor enrico bistazioni con il quale vorrei approfondire appunto il discorso della della rubrica su pasolini che dicevamo questo assassino è di fatto è un caso sempre tutt'oggi aperto come hai spiegato nella nella rubrica insomma fa anche un po' specie che questo caso non sia chiuso no processualmente è chiuso e sempre stata confermata la prima sentenza del 1976 che ha accusato pino pelosi però c'è una serie di ritrattamenti di nuovi elementi che riaffiorano continuamente compreso il fatto che pelosi poco tempo prima di morire nel 2017 come abbiamo ricordato nel filmato ha detto di essersi inventato il fatto di essere stato l'unico colpevole e lo ha fatto perché minacciato dai veri responsabili l'impressione che sia un caso con i lati oscuri che superano di gran lunga quelli portati alla luce e allora è il momento di conoscere il contributo di oggi lui è giuseppe orfino giornalista maremmano capo di gabinetto del comune di piombino domani andrà meglio porto seguro il suo primo romanzo che racconta la vita l'amore perduto e il tentativo di andare avanti e costruirsi un futuro di un trentenne sentiamo ho sempre avuto fin da piccolo l'esigenza di scrivere poi che abbia scritto per me o che abbia scritto per altri penso che cambi poco rimane comunque l'amore per per la parola l'amore per la comunicazione che sia mediata o che sia attraverso un romanzo ecco diciamo che quello che mi caratterizza il filo rosso che c'è sempre è comunque la la voglia di raccontare una storia il protagonista del libro è Ettore è un trentenne un trentenne del 2000 un trentenne che non ha una professione non ha una ragazza quindi è precario negli affetti è precario anche nel lavoro è abbandonato dalla ragazza e quindi il libro racconta l'anno che sarà necessario Ettore per prendersi le proprie responsabilità per provare a diventare un uomo e affrancarsi anche dall'amore da un amore che non c'è più sicuramente è un libro che la che gioca molto sulle immagini che possa essere cinematografico non lo so di sicuro il mondo cinematografico la narrazione cinematografica mi ha sempre interessato quindi se alcuni passi del libro sembrano citazioni cinematografiche è perché il linguaggio cinematografico mi ha sempre interessato e quindi ho provato a riprodurre una visione che fosse meno magari dal romanzo e più da audiovisivo domani andrà meglio è la frase che ci siamo fatti tutti almeno una volta nella vita penso anche il più pessimista del mondo una volta pensato vabbè domani andrà meglio e credo che sia la speranza per questi giorni per ognuno di noi e abbiamo quindi conosciuto questa bella storia di Giuseppe Orfino giusto per darvi alcuni consigli nel corso come facciamo sempre nel corso di quante storie vuoi ed ora è il momento di conoscere la poesia che Dianora ha scelto proprio collegata a questo libro quante rime prego Dianora sì grazie Francesca ecco proprio ispirandomi al tema trattato in questa puntata vale a dire il tema della della fraternità della condivisione dell'accoglienza e dell'amicizia ho scelto una parte di uno scritto di Primo Levi Primo Levi tutti lo conosciamo famosissimo per il suo libro se questo è un uomo ispirato alla sua tragica esperienza nei campi di concentramento non è stato soltanto uno scrittore ma anche un poeta e anche uno scrittore di racconti ecco questa poesia si intitola Gli Amici Cari amici qui dico amici nel senso vasto della parola moglie sorella sodali parenti compagni e compagni di scuola persone viste una sola volta o praticate per tutta la vita purché fra noi per almeno un momento sia stato teso un segmento una corta ben definita dico per voi compagni di un cammino folto non privo di fatica e per voi pure che avete perduto l'anima l'animo la voglia di vita ebbene sullo sfondo delle opere artistiche di Daniele Govi ringraziamo Dianora Tinti per le poesie sempre azzeccate sui libri fatte appunto nel corso di tutta la serie questa serie di quante storie vuoi riprendiamo quindi la nostra conversazione con Enrico Genovesi dicevamo il libro Nomadelfia un oasi di fraternità tra l'altro è stato finanziato da una campagna di crowdfunding promossa da Crowdbook la piattaforma di publishing esclusiva che permette agli autori di raccogliere fondi per la pubblicazione di libri e che ha già reso possibile la pubblicazione pensate di 65 titoli principalmente fotografici raccogliendo oltre 500 mila euro da utenti di tutto il mondo il progetto Nomadelfia ha suscitato già dai primi giorni di lancio in prevendita all'interesse di moltissime persone superando il gol previsto addirittura con un mese di anticipo credo che queste siano sempre notizie che fanno bene al mondo della letteratura e tutte le arti poi affini come quella della fotografia beh insomma credo che anche questo ti abbia dato poi un lancio migliore per cominciare no? Assolutamente sì è stata un'esperienza nuova anche per me quella del crowdfunding perché in realtà non era stata la mia prima esperienza editoriale perché ho già pubblicato una decina di volumi ma sono sempre stati diciamo rivolti e finanziati di volta in volta dagli enti preposti no? Esatto. Quindi avevano una copertura alla base quindi avventurarmi in una sorta di finanziamento dal basso come è definito appunto il crowdfunding è stata anche un po' così un'avventura un rischio che comunque provi diciamo così a affrontare ed è stato bellissimo grazie anche alla capacità organizzativa dell'editore che ricordo e saluto a Stefano Bianchi ma che attraverso il quale anche con una certa diciamo sorpresa siamo riusciti veramente ovviamente avere un'esplosione di prevendite di prima ancora che appunto il termine si concludesse tant'è che il progetto iniziale era calibrato su una tiratura di un certo tipo e poi arrivata alla fine è più che raddoppiata la tiratura finale grazie appunto alla fiducia che ci hanno dato tanti ed è bello anche scoprire questa questa cosa vedere quante persone ti sono vicino anche nell'accompagnarti in un'esperienza in un percorso per te nuovo. Ecco prima di ripassare la parola ai ragazzi che sono ancora collegati con noi via Skype volevo tornare su Elia e Veronica e cercare di capire anche dato che appunto ci sono i vari momenti poi dell'anno come si vive il Natale all'interno di una comunità come quella di Umadelfi. Il Natale è un momento forte soprattutto per una realtà come la nostra che fa della fede quello che è il collante quello che è la base dell'unità di questa fraternità e al Natale cerchiamo di prepararci come tanti altri anche fanno ma con la particolarità che tutta la popolazione coinvolta dai bambini più piccoli agli anziani e le cose particolari che poi anche la popolazione grossetana ormai conosce da anni sono magari i momenti di presepe vivente dove i bambini più piccoli proprio durante la celebrazione esprimono e ricreano le varie situazioni che il Vangelo propone ma ci sono anche tanti altri piccoli momenti ognuno nei vari gruppi familiari dove si svolge la vita nel quotidiano che danno quel senso di Natale in famiglia ma un Natale vissuto nel gesto concreto. Veronica vuoi aggiungere qualcosa? Ti vedevo annuire. Sì se posso aggiungere perché diciamo che cerchiamo di vivere un Natale all'insegna anche dell'accoglienza e dell'attenzione agli altri e perciò in questi momenti ecco noi apriamo anche le porte per le persone che magari passerebbero le feste da soli e noi cerchiamo di essere anche la loro famiglia e ecco questo penso che la cosa più bella no di essere aperti ecco. Sì perché poi è una comunità che sembra chiusa ma in realtà voi ricevete molte visite da chiunque comunque avete sempre un rapporto con tra virgolette il resto del mondo certo certo dire una cosa scortese però è importantissimo questo rapporto nel senso che noi siamo lì e abbiamo scelto questa vita non solo per noi stessi perché ci fa bene a noi ma perché pensiamo che sia una proposta e anche una ricchezza che vogliamo offrire a chi vuole abbeverarsene a chi vuole conoscere e perciò sì vogliamo essere sempre aperti verso il mondo. Ritorniamo quindi alle domande dei ragazzi e sentiamo quali sono le altre curiosità prego Io sono Piruna e volevo chiedervi che rapporto ha o aveva con la comunità di Nomadelfia e perché ha scelto proprio quella comunità. Chiedervi a me? Sì chiedere a te. Sì allora non ho detto appunto in partenza il motivo che mi ha portato all'affrontare questo reportaggio all'interno della comunità che in quell'anno nel 2017 la federazione italiana delle associazioni fotografiche invitava a raccolta tutti i fotografi d'Italia a lavorare sul tema della famiglia. Io in quel momento mi piaceva affrontare questo tema, ero un curiosito non conoscevo tantissimo di Nomadelfia ma quel poco che sapevo, in realtà io abito a 100 km di distanza Cecina, quindi era diciamo sufficiente per indicarmi che Nomadelfia potesse essere il luogo giusto e non sbagliavo perché Nomadelfia in realtà è una famiglia di famiglie, come lo stesso Don Zeno definiva e da lì però poi si è innescato un processo di curiosità e di amicizie profonde che mi ha legato alla comunità stessa al di là poi della propria relazione con la fede, che questa è una cosa un po' diciamo che può essere anche poi equivocata perché ovviamente loro hanno questa caratteristica anche fondante, fondamentale ma per me erano determinanti i valori profondi universali che persegue l'abbiamo già citati, la giustizia e che lo stesso Don Zeno metteva avanti a ogni cosa e quant'altro quindi da lì è nata una frequentazione che è andata ben oltre l'esigenza del momento di lavorare sul tema della famiglia ma che poi è proseguita e mi ha permesso anche di scoprire una realtà veramente densa di fascino e con delle persone straordinarie, con alcune delle quali io attraverso di loro ora saluto tutti indistintamente e ho relazionato anche in modo molto molto profondo una cosa particolare che ho accorto è la semplicità una sana con cui vengono portate avanti delle cose tende per scontato che la normalità sia all'esterno perché lì sei vissuto, lì vivi e quando praticamente scopri questa realtà e la modalità con cui loro perseguono la propria vita ti fa riflettere tantissimo e quindi ti porta a farti tantissime domande e credo sia un po' anche la ricchezza che può uscire dal volume cioè quello di leggerlo, guardare le fotografie e di farti tante domande non intende dare infatti nessun tipo di risposta al libro ma vuole essere una chiave in qualche modo se uno desidera per provare ad aprire e chiedersi delle cose Ragazzi avete altre curiosità? Sono Giada e la mia domanda è attraverso la sua fotografia ha cercato di mettere in luce i principi su cui si basa la comunità di Nomadelfia? Sì, ma vengono in automatico raccontando la loro quotidianità cioè non c'è necessità di forzare la mano andando a cercare dei gesti, delle gestualità e delle pratiche sostanzialmente scontate o stereotipate per raccontare cioè non faccio esempi inutili però è sufficiente raccontare la quotidianità cos'è Nomadelfia oggi attraverso i gesti più semplici e soprattutto le particolarità che le caratterizza questi aspetti che sono fra virgolette un po' messi nel libro in forma di capitolo anche se non hanno volutamente non avrebbero questa volontà rigida di essere così strutturati ma dove appunto emergono questi aspetti che ti incuriosiscono ovvero quello di essere concepita sotto forma di gruppi familiari quella dell'esistenza di una figura chiamata mamma di vocazione che noi abbiamo citato il cambiamento dei gruppi familiari che avviene ogni tre anni il modo con cui si gestisce il lavoro il lavoro di massa, il lavoro individuale ci sono tante cose che veramente scopri che sono illuminanti peraltro nate 70 anni fa e quindi ben oltre 70 anni fa e che se funzionano vuol dire che se esistono ancora significa che in qualche modo continuano a funzionare Dianora ma io avevo una curiosità di questo tipo quante persone compongono la comunità di Nomadelfia e ancora questi rapporti con l'esterno in realtà poi come si concretizzano? Allora io su questo poi do la risposta più precisa a Elia o Veronica però in realtà sono circa 300 persone caratterizzate da in 11 gruppi familiari che si trovano qui a Grosseto più un dodicesimo gruppo a Roma attualmente poi ci dirà Elia qualcosa in più se vuole e sostanzialmente quasi la metà della popolazione è addirittura composta da giovani da giovani, ragazzi insomma perché la caratteristica un po' con cui nasce all'epoca era quella dell'accoglienza dei bambini per strada eravamo a cavallo delle due guerre poi dopo guerra e quindi era un'esigenza di questo tipo esigenza che in qualche modo prosegue ovviamente cambia solo la modalità con cui i bambini vengono arrivano diciamo a questa comunità però sui dettagli lascio volentieri la parola a loro che potranno essere sicuramente molto più precisi di me Prego No, tutto corretto Enrico ha studiato bene e ha visto e si è calato bene nella realtà di Nomadelfia Sì, effettivamente abbiamo questi dieci gruppi familiari adesso qui a Grosseto uno a Roma, Montemario da diversi anni, da una quindicina di anni e la cosa interessante è che stiamo avverando quello che è anche un sogno di Don Zeno della presenza di un gruppo familiare di Nomadelfia all'estero e in particolare adesso stiamo avviando anzi abbiamo già iniziato i lavori per un gruppo familiare in Tanzania in una delle regioni più povere di questo paese dell'Africa e alcuni di noi sono già stati giù diverse volte a più riprese adesso abbiamo delle persone che portano avanti i lavori e quindi presto avremo un gruppo familiare anche in Africa questo credo che sia un segno anche del fatto che questa realtà che è ancora vitale Nomadelfia, di fraternità ha un futuro anche in questa direzione di un'apertura in qualsiasi luogo dove c'è la volontà di vivere da fratelli Elia, io ho una curiosità ma quando c'è un problema in famiglia un bimbo che fa, non lo so, le marachelle a scuola che non vuole studiare ma come ci si comporta? Allora, dopo lascio volentieri il microfono a Veronica però credo che veramente siamo come tante altre famiglie cioè quelle che sono le sfide quotidiane educative non le bypassiamo la forza che abbiamo in più è che possiamo affrontarle insieme ad altri il gruppo familiare in questo senso è una grande ricchezza è una risposta anche e soprattutto per quella che è la sfida educativa quando tu sai che certe regole provi a metterle perché sai che sono per il bene ma non sei solo e hai anche altre famiglie intorno con le quali scopri il modo migliore per poterle portare avanti senti una forza che magari la famiglia da sola non avrebbe sì ecco confermo tutto posso dire ecco che la forza che c'è a Nomadelfia nell'educazione è che noi babbie e mamme abbiamo scelto delle linee educative e le condividiamo perciò ecco quel sì o quel no che dico io è confermato da tutte le altre mamme c'è unione nella coppia e non solo nella coppia e con le altre coppie certo nel limite dell'umanità ecco perché non è che siamo uniformati però ecco sulle cose grandi siamo uniti e perciò i figli lo sentono e a un certo punto capiscono anche a volte non subito ma nel corso della vita capiscono che erano cose importanti magari ecco grazie di questa puntualizzazione sull'educazione dei figli che insomma credo che sia un argomento importante e discusso nella quotidianità per molti Enrico vuoi aggiungere qualcosa per concludere? una domanda molto breve volevo chiedere all'artista Enrico se si era avvicinato ad artista appunto con qualche pregiudizio e che aveva poi avuto modo di ricacciare definitivamente quelli di tutti perché che non sono poi alla fine pregiudizi sono dei così delle ma di domani cosa troverò esattamente no ma è cioè il fotografo è aperto a queste cose è curioso e quindi ha esigenza proprio di scoprire esattamente come siano le cose perché è testimone poi di quello che trova in questo luogo in questa realtà o qualunque altro ho avuto tante esperienze anche appunto di vario tipo che non so se vogliamo parlare però e quindi ti fai delle domande iniziali che poi praticamente ma qualora ci fossero stati dei piccolissimi pregiudizi ma mai forse termine di pregiudizio un po' troppo azzardato diciamo così sono delle domande iniziali che poi a cui cerchi delle risposte ma che evitabilmente e che in qualche modo poi non magari le trovi e quindi ti confermano e in qualche modo ti danno anche la possibilità di rimettere in discussione o ti confermano o ti danno la possibilità di rimettere in discussione il tuo pensiero ed è questo qui mi ricollego a quanto dicevo prima ed è importante perché è necessario essere aperti aperti e quello che porta a casa da questa cosa di fatto è un'esperienza che mi permette di volta in volta di costruire la mia persona noi siamo alle battute finali della puntata e anche di tutta la serie per cui ci salutiamo come facciamo di solito ovvero con un consiglio di lettura questo è un libro il libro di cui vi parliamo diciamo che è una raccolta di poesie un uomo solo nel deserto della vita edizioni e figi curato da Francesco Angius Grossetano tecnico federale del settore lanci della nazionale di atletica leggera 17 anni fa un pesante lutto lo ha colpito quello della moglie Graziella per questo ogni anno si adopera per raccogliere fondi in favore dell'associazione italiana della ricerca sul cancro non è nuovo al mondo della letteratura si tratta di un libro dedicato appunto alla sua memoria e coloro che volessero contribuire alla causa possono rivolgersi a Eleonora Schertel rintracciabile su Facebook oppure allo stesso Francesco Angius facilmente rintracciabile al campo Zauli di Grosseto dove quotidianamente svolge attività con i ragazzi noi qui ci fermiamo davvero vi ringraziamo per averci seguito ovviamente ringraziamo la nostra Dianora Tinti per le sue critiche grazie il nostro editor e traduttore Enrico Vistazzoni per il suo contributo e lì è Veronica della comunità di Nomadelfia per essere stati con noi i ragazzi che dalla scuola di Arcidosso il liceo delle scienze umane la terza A sono stati con noi nonostante la difficoltà diciamo dell'online purtroppo oggi non presenti per un problema di sciopero dei trasporti e il nostro autore Enrico Genovesi che da Cecina ci ha raggiunto qui nei nostri studi ringraziamo ovviamente Daniele Govi che ci ha concesso le sue opere nello spazio di poesia curato da Dianora grazie di cuore a voi che da casa ci seguite numerosi la regia i tecnici il direttore di produzione tutto lo staff che veramente ha tanta pazienza con noi quindi torniamo con quante storie vuoi nella prossima serie che torneremo a registrare in primavera arrivederci grazie